L'alimentazione è sempre stata il fungo della mia vita e infatti l'ho sempre legata a momenti di convivialità piuttosto che a momenti di tristezza o di gioia. Questo è un mio modo di pormi nei confronti del cibo, ho cercato di trasmetterlo anche inconsapevolmente a familiari ed amici. È diventata una passione tale per cui il mio percorso da biologa ha preso poi la strada verso la biologa nutritionista. In questo mio percorso mi sento in armonia con me e sette con il mondo che mi circonda e da brava scienziata la curiosità prima di tutto. Infatti ogni giorno cerco di sperimentare le nuove ricette cercando di abbinare gli alimenti in modo creativo tenendo conto delle loro proprietà intraceutiche. Amo la colazione e infatti la ricetta chiave del mio cambiamento sono i miei biscotti e cereali che rendo ancora più gustosi grazie all'aggiunta di frutta secca e fave di cacao che posso acquistare sul sito di Frutte Bacche. Come dico sempre ai miei pazienti cerchiamo di amarci di più prendendoci cura di noi stessi perché noi siamo gli artefici del nostro benessere.